Il cielo è blu e partivi tu, quante lacrime di pioggia giù, e c'era lì tutta lì per te, la montagna e la sincerità. Amici ed animali, parevo mille mani, per dirti ai di ciao, ritorna presto qui. Oh ai di Dì, oh ai di Dì, se manchi tu chi sognerà quest'angolo di mondo ai di Dì. Oh ai di Dì, oh ai di Dì, se torni qui ritroverai un angolo di pace ai di Dì. Il cielo è blu e ritorni tu, quante lacrime di gioia su, ed ecco qui, tutta qui per te, la montagna e la sincerità. Amici ed animali, ti sembrano mille mani, per dirti ai di Dì ciao, e non lasciarci più. Oh ai di Dì, oh ai di Dì, insieme a te rimane già quest'angolo di mondo ai di Dì. Oh ai di Dì, oh ai di Dì, rimane qui e resterà un angolo di pace ai di Dì. La 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Heidi, sveglia! Eccomi! Arrivo! Oh, 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 oh! Buongiorno, Nana! Buongiorno cara, visto che giornata oggi? Che bello quando c'è il sole Eh già, stamani all'alba il vento ha girato, io ero già fuori che lavoravo e si vedevano tutte le stelle E ora vatti a lavare o il sole si arrabbia se ne va Buongiorno sciocco di neve, stai bene? Buongiorno anche a te, Nerina Eh Eh Allora, vediamo Le mani E adesso la colazione Sentite nonno, ero venuto qui per... Eri venuto per dirmi buongiorno immagino, no? Ma che, ero qui per... Scusate, buongiorno, no? Allora, che cosa vuoi? Mi hanno mandato a dirvi che oggi dovete restare a casa, ecco Ah, e che significa dovete? Me l'ha detto il borgomastro Ah, lui, eh? Io sono pronta Andiamo, Peter Sei pronto il pacco di nero? Sì, vieni anche tu e anche Nerina Vente fuori E cammina, Nerina, muovici un po' E non tirarla così Hai portato il formaggio e salsiccio? Pensi sempre alla pancia tu, eh, Peter? Oh, mi raccomando, non fate tardi State tranquillo, nonne Ciao, nonno Ciao, piccola Hey, hey, hey Hey Che giusto, Peter? Ciao, piccola Il tuo latte Allora, andiamo Sei matta, è lontanissimo lassù Ma avevi promesso che mi ci avresti accompagnato prima il giorno di bel tempo E oggi è bello, ma è solo perché voglio sapere da dove viene giù il torrento Sì, e sai poi che fame che ci viene, non si fa altro che salire, salire Io ce l'ho di mangiare Io invece ho finito tutto Ti posso dare il mio pane burro? E anche un po' di salsiccia Sì, anche quella, ma solo quando saremo in cina Mi dispiace ciocco di neve di non darti un po' di pane Ma è Peter che mi accompagna là, mica tu, perché andiamo, vero? Croce sul cuore? Ti ho detto di sì, andiamo Su, non fatti tirare Ecco, adesso siamo in cima, fuori la mia salsiccia Ma dobbiamo salire ancora Su quelle rocce, ma non le vedi? Allora non ci si arriva La sua, la cascata? No E perché no? Perché è troppo ripido Avevi detto che mi portavi dove comincia il torrente E vabbè, comincia da qui Sì, e dove comincia la cascata? Su, in alto in alto, tra i monti C'è anche un laghetto E tu l'hai visto, Peter? Ah, certo Allora ci si può arrivare Vedrai Sarà dura Ehi, salute nonno! Ma non ve l'ha detto, Peter? Di che? Che venivate voi? Sì, che volevo parlarvi Non ho tempo da fare Tutti abbiamo da fare Io mentre venivo qui mi sono preparato il discorso per domenica Sull'amore per il prossimo? No, sulla buona volontà Ecco, dal Vangelo secondo San Luca, immagino Eh, come? Eh, sta scritto Esercitate lo spirito alla buona volontà Non dice così? Sì, sì, credo di sì Vi do una mano, nonno? Non sarete mica venuto fin quassù per sfacchinare? Ah, in effetti no, però vi aiuto volentieri Insomma, che volete? Eh, che bel pascolo che avete qui Devo chiedervi un piacere Un piacere? Sì Domenica prossima monteremo le nuove campane Parteciperanno alla festa i bambini del paese Heidi, la vostra nipotina, è una di loro, nonno Dovrebbe esserci anche lei Perché? Heidi non scende volentieri in paese Sì, d'accordo, ma in autunno dovrà venire comunque Già l'altro anno dovevate portarlo a scuola Non potete fare come vi pare E chi lo dice? Lo dice la legge Sì, te la raccomando E voi credete che io mando una bambina d'inverno Magari sotto una tempesta di neve Filla giù per poi farla tornare a casa a buio? No, certo, non potrà mai venire a scuola Se continuate ad abitare quassù Ma c'è una soluzione che avreste dovuto capire da un pezzo Tornate in paese, nonno, a vivere insieme agli altri No, giù, mi disprezzano tutti E viceversa Noi siamo bene per conto nostro e al diavolo gli altri Ma siete responsabile di quella bambina? Certo che lo sono e quindi decido io Heidi mi è stata fidata due anni fa, caro borgomastro So che ve l'ha portata sua zia Sì, la zia Dave La sorella della madre che ha visto benissimo dove l'avrei tenuta ed era d'accordo Perciò adesso decido io per la piccola, chiaro? Ma sentite, nonno, non vorrete finire in tribunale con un'accusa addosso E perché no, sai che risate Soldi per difendermi ne ho abbastanza se dovesse essere necessario Siete ragionevole No, caro borgomastro, Heidi dovete lasciarmela in pace La piccola è felice con me Eccola qua, la tua cima della cima, contenta? Oh, sì, com'è bello questo E quest'acqua da dove viene? Dal cielo Ma fino là tanto non ti ci porto, neanche per mille salsicce Come si chiama quella montagna? La vetta dell'eco Testa di rapa bacca la stupido razza di asino La stupido razza di asino Hai sentito? Tito E' così arrabbiata ora Andiamo, è meglio che scappiamo a casa Sì, sì, è meglio So cosa intendete, signor borgomastro Ma sedetevi un momento, sarete stanco, no? No, davvero Comunque grazie Voi pensate che la festa per le campane nuove sia una buona occasione per farmi fare la pace con quei tangheri del paese Per questo siete venuto, non per la bambina Sì, è vero Ma perché no? Sarebbe anche ora Non abbiamo mai avuto a che dire noi due Pensavo di poter comporre la questione tra voi e i compaesani Con quei Giuda, niente da fare Ancora oggi parlano di quella notte in mala fede Vanno dicendo che quella notte di vento io Io non spensi il fuoco o nel camino per menefreghismo, per prepotenza Che tutti mi avevano avvisato E che la colpa è mia se è scoppiato un incendio in paese Mia è la colpa, è di nessun altro E secondo loro avrei sulla coscienza cinque case andate a fuoco Vi andrebbe un goccio di vino? Grazie E invece vi posso giurare che quella maledetta notte Io il fuoco non l'ho nemmeno acceso Ed è falso che stavo lì a guardare e bruciare le case Beh, io... Anzi Sono stato il primo a tentare di spegnere l'incendio Io e il mio povero figliolo che ci ha rimesso la vita E sua moglie La mamma di Heidi che poi è morta di crepacuore È la verità E quelli accusano me E dovrei dimenticare anche la causa che mi hanno intentato Ho dovuto vendere metro a metro tutta la mia terra per pagare gli avvocati Per questo mi sono ridotto a vivere qui No, Borgomastro Io ho la coscienza pulita, Dio mi vede Sono quelli di giù ad averci la sporca E voi credete Che un giorno io posso scendere di nuovo in paese E magari anche andare tranquillo in chiesa A sedermi negli stessi banchi di quei lazzaroni? Ma certo che lo credo Il tempo cambia molte cose Se voi siete giusto come ritenete Non potete rifiutare ad Heidi Una vita più civile Una educazione Pensateci su Sentite anche vostra nipota Non c'è niente da pensare Stare con gli altri bandini sarebbe una gioia per lei Riflettete bene nonno E grazie per il vino Addio Che il torrente arrivava fino in paese lo sapevo anche da me Ma poi che fa? Che fa? Va a finire nel reno E che fa il reno? Quello finisce nel boden E poi si ferma lì E che cavolo ne so io E chi lo sa allora? Forse lo sa il maestro Ci sarà scritto nei libri, no? E tu li sai leggere? No E perché no? Ah, sei un bello strazio tu È che io ho scelto così, capito? Sai, o si studiano i libri O si va sulla montagna Non si può fare tutte e due le cose Allora io non voglio imparare a leggere Mai Il borgomastro Certo che il borgomastro parla bene lui Ma noi due non vogliamo avere niente a che spartire con quelli laggiù, vero? No, no Le campane sono pesanti Beh, dipende da quanto pesano I bambini ce la faranno a tirarle su? Se tutto funziona a dovere, certo E se per caso un bambino si ammala? Allora lo sostituiscono con un altro Eh, ma se sono tutti lì in piazza non ce ne sarà certo un altro Senti nonno, è meglio se andiamo in paese Solo se per caso si ammala un bambino, capito? Io starei lì buona buona da una parte e pronta a sostituirlo Che ne dici? Sì Beh, vedremo Grazie tante nonno E ora fino a letto Buonanotte Mamma, che c'è? Comincia E allora corri Sì, io vado eh Vai, vai Dai, sbrigati presto, no? Sì, vengo, vengo Su, scappa da Birgit Ma tu non vieni con me? Quando la festa sarà finita do una bussatina alla porta e ti aspetto qui fuori Tu va con la signora Birgit Sì? Sono io Ah, Isi, ma che bella sorpresa Come mai sei in paese? Per la festa delle campane nuove Non si sa mai se manca un bambino, gli aiuto a tirarle su Ah, ecco, te l'ha detto il nonno, eh? Eh, già Ma Peter è già andato in piazza Ti accompagnerò io, va bene? Oh, grazie Ecco Questo dovrebbe bastare per le prossime due settimane E anche in questa occasione tieni aperto e fai entrare chiunque stiamo freschi Non vedremo un fico secco E poi per servire gente che ha tutta la settimana per venire E invece sceglie proprio la domenica Per dispetto, per pura cattiveria Lasciamole parlare le donne Visto che le galline non possono Ah, sì Saluti Saluti Allora ci siamo Su ragazzi, fate due file Ho detto di fare due file da bravi Su, in ordine Ogni fila terrà una corda Ecco così, buoni Buoni Ora fate attenzione, siete pronti? Sì, sì, che porto marco Posso tirare anch'io se lo porto marco? Ma certo, carottina Devi stringere bene la corda E tirarla con forza appena te lo dice il campanaro Sì, sì, abbiamo capito Però facciamo pronto Se no ci stanchiamo Ma questa non è Heidi del vecchio delle Alpi? Vuoi andare anche tu con gli altri? Sì E allora vieni, permettete? Ci sarai di grande aiuto Io ho una fama Io so tirare più forte Sì, domani Vedrai Ma quella bambina chi è? È Heidi Sì, quella della montagna Ecco qua Allora hai capito, eh? Quando il campanaro dà il segnale tira la corda Sì Siamo pronti, pronti Attenzione Attenti bambini Corda in mano Dai, prendila Sì, ma fammi forza No, qui ci sto io Siamo pronti Sì Tirare Tirare Forza Sì, ma fammi forza Ti farà tanto il signor Borgomastro Ecco qua il tuo panino Sì, anch'io lo voglio E questo è per te Grazie Grazie Ti abbrighite Ti abbrighite Spendine un po' Grazie, cara Lo sai? Quando era ancora vivo il mio povero marito e abitavamo in montagna Solo la domenica venivamo in paese a comprare il pane bianco Perché lassù di pane bianco non ce n'era davvero E non vi diventava secco? Ma dopo un po' secco Ma non si doveva buttare Lo riscaldavamo nel camino e tornava ad essere squisito Quando sarò grande ti porterò del pane bianco ogni giorno Ma che tesoro stai Heidi Vieni Il nonno in paese Dovrò fare un segno speciale sul calendario Guarda nonno Mi hanno dato un buonissimo pennino E il borbomastro ha fatto tirare la corda anche a me, sai? Brava, brava Quelle, quelle stanze lassù In quelle due stanze che avete lassù Chi ci abita? Quelle? Non ci può abitare nessuno Son troppo mal ridotte Prima o poi ci cascherà il tetto in testa È un pezzo che lo dico Giovannotto dovresti darti da fare tu col martello Peter non è capace E poi ogni mattina devo pascolare le capre Allora dovrà pensarci qualcun altro immagino Si potrebbe chiedere a qualcuno che magari che so Facesse il lavoro in cambio dell'alloggio per l'inverno Ah si, certo che si potrebbe Pagando anche un piccolo affitto Si anche E credo di sapere che avete in mente voi Ma la persona a cui voi state pensando Deve ancora rifletterci su Vieni Heidi Ciao cia Brighitte Arrivederci Non farti tirare, su Ehi, ehi Ehi, spento Peter Facciamo spesso Ehi, ehi Ehi, ehi Ma dice davvero Il vecchio delle Alpi è venuto in paese Si signorina Deitz Ora è su dalla madre di Peter E pare anche che voglia restarci in paese Guardi, vado su per quella stradina E poi alla seconda a sinistra È un portoncino, non può sbagliare Grazie, grazie infinito Se vuole prendere il treno del pomeriggio Verso le quattro Posso portarlo io alla stazione col calette Grazie, approfitterò Ehi, ehi Ehi, ehi Ehi, ehi Heidi Heidi Eccolo Su, spicciati C'è una visita per te La schiadeita è venuta da Francofocco Cosa? Ehi, ehi Su, va a salutarla Sono già due ore che aspetta parlando con il nonno E secondo lei Io dovrei aver fatto il viaggio da Francoforte Fino a queste catapecchie Tutto per niente Così a vuoto Beh, mi dispiace Ma il discorso è chiuso Heidi resta qui Non è fatta per la città Deve vivere Sui suoi monti Buongiorno, chiedezza Allora mi riconosci Ciao Heidi Come stai? Ah, ti ho portato un bel regalo Guarda Un vestito Spero che ti vada bene E sai, non mi aspettavo di trovarti tanto cresciuta Grazie Vieni con me tesoro Andiamo ad aprire il pacco Io non riesco a capire perché vuole rovinare l'esistenza quella bambina Un'occasione che non le capiterà mai più Heidi resta qui Resta, resta Non sa dire altro È sessardo come un mulo lei E scorda che Heidi è stata affidata a me da mia sorella Sì, è vero L'ha affidata a voi morendo E poi voi l'avete mollata al sottoscritto come fosse stata un pacchettino Perché non avevo ancora un lavoro in città E dove la mettevo, la bambina? Ma ora verrebbe a vivere in una villa dove avrebbe tutto C'è perfino un'insegnante che potrà dare ad Heidi l'istruzione che lei è dovuta È una grande fortuna che il console, il signor Seseman Sta cercando una compagna per sua figlia Clara, poverina, che non può camminare E perché non può camminare? Perché ha le gambe paralizzate Heidi fa anche una buona azione se viene E lei non ha il diritto di trattenerla Io la porto con me a Francoforto e l'ho promesso al signor console Beh, ora basta Ma bambina rimane con me Non mi interessa quello che avete promesso Qui non li fanno neanche i vestiti Così belli Ti piace tesoro? È bellissimo Purtroppo adesso devo andare, non posso trattenermi ancora Ti va di accompagnarmi un poco? Non so se posso Ma è certo che puoi fare un po' di strada con la tia Deite Così almeno mi racconterai qualcosa di te Allora buon viaggio Grazie di tutto Vieni Ma non star via che di cinque minuti Heidi Che se nono ti cerca e non ti trova Sì, sì Dai, il padrone dell'Emporia ha detto che mi porta alla stazione Tu mi accompagni fino là, vero? Sì, ma devo chiedere il permesso al nonno No, 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 lascialo stare Gli farai una sorpresa e gli comprerai un bel regalo Sai come sarà contento I soldi te li do io, d'accordo? Oh, sì, voleva tanto una pipa Va bene Sì, però dobbiamo fare presto Sì, certo Dai, corri, tia Deite Dove vai Heidi? Accompagna la stazione e la tia Deite Su Heidi, sbrighiamoci Mi farsi il treno se no Quanta fretta Forza, facciamo appena in tempo, signorina Heidi, viene anche tu con noi alla stazione? Sì, perché? Ma il tuo nonno Ehi, dove hai la testa? Ti scordi sempre qualcosa tu? Sì, sì, va bene, va bene Mamma, quando ritornai? Tra pochi minuti Sì, dalla stazione Che c'entra la stazione adesso? Ma ha detto Heidi che ci andavo Oh, santo Dio Nonno! Nonno, correte! Ti piace andare in calezza, Heidi? E come? Dov'è la bambina? Quale bambina? Heidi, che domanda idiota! Che diavolo succede? Si sono portati via Heidi È il solito piantagrane La piccola è andata solo fino alla stazione con mio marito Cosa? Non può più svegliere Con un po' di fortuna Riusciamo ad acchiappare il treno delle cinque Mi raccomando, vede di farci Ehi Ehi Heidi Allora Heidi Ti piace trottare? Tanto Eh sì, è bello Oh, oh, oh Haydi! 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 Oh! Hop! Eccoci! Guardo al negozio! Avete pipe da vendere? Eh no, mi dispiace piccola. Ripasso fra una decina di minuti, riprendo Haydi e me ne torno in paese. Sì, sì. Qui non ce l'hanno le pipe, sai zia? E ora come si fa? In città invece ne vendono di bellissime. A Francoforte intendo, le ho viste io. Senti Haydi, e se facessi una scappatina fino là con me ti divertiresti? Tu non sei mai stata su un treno, vero? Ma poi devo tornare prima di buio, sennò il nonno sta in pensiero. Anzi, sarà contento se vedi qualcosa di nuovo. Su, vieni. Ma domani torno a casa, promesso. Tu vieni con me e se poi non ti piace, torni subito dal nonno, va bene? Sì, ma... Su, che c'è il treno. Su, svetta, signorina. Prego. Grazie. Vieni dentro, Haydi. Vieni dentro, Haydi. Vedo. Vedo. Lecce. Vedo. Vedo. Y... Vedo. Ecco, siamo arrivate, su scendi, andiamo. E non dimenticare in casa di comportarti esattamente come ti ho insegnato. È questo caso, la casa? Ah, finalmente. Buonasera, Sebastian. È tutta qui? Si capisce. Cosa ti aspettavi di vedere? Una foca ammaestrata. Va subito dalla signorina Rottenmeier, ti sta aspettando da un pezzo. C'è anche il signor console con lei? No, è fuori da stamane. Avanti. Buonasera, signorina Clara. Buonasera, signorina Rottenmeier. Mi scusi, il treno ha avuto un po' di ritardo. La ringrazio per avermi fatto aspettare dall'autista. Ecco la nipotina che le dicevo. Ehi, ciao. E che? Sarebbe questa la bambina. Fatti un po' vedere, piccola. Come ti chiami? Su, di il tuo nome alla signorina. Heidi. Heidi. All'anagrafe risulta Adelaide come sua madre. Allora, Adelaide. E quanti anni hai? Otto. Otto. Venga, sta buona, eh? Sebastian, serva la cena a questa bambina. Senti, sei tu, Clara? Sì, sono io. E tu alla carrozzella? E puoi andarci dove vuoi? Certo. Anche in montagna? No, lì non potrei. Ora siediti, vieni. Hai fame, immagino. È già stato quel viaggio. Ecco qua. Ma questo toglielo. La casa fa caldo. Non siamo sulla montagna. Va bene, grazie. Ti aiuto, vuoi? Ah, lasci signorina. Ecco. Lì c'è il pane. Oh, ma questo qui è proprio bianco. Come dici? È pane bianco. Io ne prendo uno. Ma sì, certo. Lo devo portare a Brigitte. Lo devi? Ma naturale. Non l'ha mai visto. A noi serviva una bambina che fosse in grado di studiare insieme a Clara e lei forza una contadinella di otto anni per giunta. Sì, ma... Deciderà comunque domani il signor Sese, ma non credo che farà restare sua nipote. Rosie, prepari la stanza per la piccola, prego. Sì, signorina. Via una mano alla caveriera. Serva il dolce. Signorina. Grazie. Grazie tante. Anche tu sei un capo stazione. Cosa? Altra anno c'era il capo di tutti che aveva i bottoni belli come i tuoi. È buffa però. Già, tutta la situazione è comica. Lei si può ritirare se occorre la chiamo. Come preferisce, Sese. Adelaide, ora dovrò cercare di insegnarti alcune regole fondamentali alle quali dovrai ottemperare stando qui, anche se non ci resterai per molto tempo. Ma signorina... Non interrompere, Clara, non è educato. Intanto l'uomo che era qui poco fa ha il compito di servirci, mai mettersi a discorrere con un cameriere, specialmente a tavola. Ma cosa stai facendo? La zuppetta. La zuppetta. E chi ti ha insegnato così? Il mio nonno. Clara, non c'è niente da ridere. Qui non sei né al paese né a badare alle capre. Quindi comportati di conseguenza. Prendi esempio da Clara. Signorina Rottenmaie? Sì? Posso avere un altro po' di dolce? Volentieri. Noi speravamo che almeno tu conoscessi i più elementari principi dell'educazione. Invece io dovrei cominciare da zero con te. Ma che lo dico a fare? Cosa potevo aspettarmi da una montanara di otto anni? Sarà già tanto se sai usare coltello e forchetta. Ora neanche quelli. Questo è il colmo. È stanca, poverina. Non aveva mai fatto un viaggio prima. Bisogna dominarsi. Sebastian, porti la bambina. La bambina da rosi e la faccia mettere a letto. Oh oh, Heidi. Vieni. È stato un po' troppo per oggi, eh? La bambina da rosi e la faccia mettere a letto. Ma come? Non sei ancora pronta? Su, svelta. Lavati i vestiti. I signori sono giù a fare colazione. Dov'è la cia dei? È in cucina, ora ha da fare. Mettiti queste pantofole di Clara. Grazie. E appena sei pronta scendi, intesi? Grazie. Ah. Ah. L'ho mandata a chiamare ora da Rosi Si renderà conto che non è adatta, signor console E a me servirà di lezione Non dovevo mai affidarmi ad una cuoca Era chiaro chi avrebbe portato Ma cara signorina, non precipichiamo Come si chiama la piccola? Heidi Adelaide per esteso e così la chiameremo E perché? Non è più grazioso Heidi Diamole il tempo di ambientarsi Mi passa la marmellata Oh, prego Grazie E tu Clara non dici niente? Ti è piaciuta Heidi? Oh papà, sapessi com'è divertente Oh perbacco, è già un passo avanti Signor Sesman, comunque quando lei non c'è qui la responsabilità è mia Sia per Clara che per la casa Lei è fuori talmente spesso Insomma con Heidi teme del disordine declina questa sua responsabilità Ero certa della sua comprensione, signore Ah sì, tuttavia vorrei che Heidi restasse E se poi non andrà bene per Clara preferisco che sia mia madre a deciderlo Arriva fra quindici giorni Le scriverò oggi stesso Quindi siamo d'accordo Solo mia madre stabilirà se quella bambina dovrà restare o tornare a casa sua Non si preoccupi, signor Sesman Sì, chi è? Disturbo? Ci mancherebbe, accomodati Ciao Clara Signorina Buongiorno dottore Vada pure di là per la lezione, signorina Sì, certo, confermelo Meno male che sei venuta subito E con te Perché sono di partenza come al solito Hai già fatto colazione? Sì, grazie Siediti lo stesso Ho bisogno di parlare Ciao tesoro C'è una cosa che mi sta a cuore Scusa che tolgo Vorrei approfittare di te che hai in cura Clara e ormai sei di famiglia Dimmi Dovrò stare fuori per lavoro almeno tre mesi I miei collaboratori d'ufficio lo sanno ma in casa non l'ho detto Non voglio che mia figlia ti preoccupi Quello che volevo era proprio affidarti Clara in un certo senso Bisognerebbe scuoterla Sì, ma non è facile aiutarla oggi Piombata nell'apatia dopo la difterite Sì, lo so che non è facile Ormai non mi faccio più tante illusioni Ma d'altra parte non posso arrendermi a... Sì? Ah, ecco la nostra contadinella Ciao cara, vieni, vieni Siediti con noi È quella che ho fatto venire Graziosa Buongiorno Heidi, hai dormito bene? Sì? Vuoi la cioccolata o solo latte? O tutti e due? Latte Già, che sciocco, abituata con le tue caprette Dammi il bicchiere Heidi per favore Ecco, c'è anche pane e burro Usa Valoro Servita Grazie Ecco Tu sei il consolo Seseman? No, il consolo sono io Questo è il nostro dottoro E speriamo che a te non serva mai Tu stavi in montagna, no? Che monti ci sono al tuo paese, lo sai? Eh, la vetta dell'Eco E poi c'è ancora... La vetta dell'Eco C'è sempre da imparare Perbacco, si è fatto tardi Devo scappare Tu vieni con me in ufficio, Rudolf Sì, così finiamo il discorso E tu, Heidi, quando hai finito di bere il tuo latte Va di là da Clara, d'accordo? Oh, senti, non c'è bisogno che ti dica di montare i miei cavalli se ti va Un po' di moto gli fa bene E farà bene anche a te Sì, è vero Sì, avanti Avanti, ho detto Ci siamo alzate un po' tardi stamattina E non si è mai vista un'alunna arrivare alle lezioni masticando un panino Per volta passi avanti Su, va a sederti A sedere, ho detto Buongiorno, Heidi Ciao E questo sarà il tuo posto E ricordati, Heidi Che da domani le lezioni cominceranno alle nove in punto anche per te E vabbè E dov'è la tia Deit? Qui le domande le faccio soltanto io Qui non si parla, specie in modo sgrammaticato Qui si ascolta e in silenzio E allora faremo un piccolo esame giusto per vedere a che punto sei, eh? Tieni, leggi questo Ti ho detto di leggere Col cavolo Che razza di espressione, si dice no E perché non vuoi leggere? Perché voglio tornare sulle Alpi Oh signori, non dire delle stupidaggini e leggili Ma io non so leggere Cosa? Heidi, ma è vero che non sai leggere, neanche un po' No, niente, neanche Peter tanto sa leggere Silenzio Non disturbare almeno Ti prego Clara, leggi tu Dunque, il parafulmine Fin dai tempi più remoti Gli uomini hanno cercato di proteggersi dalla minaccia del fulmine Che... Ehi Clara, quando vado a casa posso portare al nonno una di quelle pite? Ma dico Ecco, questa qui Non toccare Lascia le cose al loro posto e mettiti a sedere Avanti, ti prego Su, su Clara, riprendi Fin dai tempi più remoti Gli uomini hanno cercato di proteggersi dalla minaccia del fulmine Che è causa di gravi sciagure Quando si abbatte Non toccare Quando si abbatte può portare la morte a uomini e animali E incendiare case e boschi Adelaide Signorina, papà ha detto di chiamarla Heidi Tu continuo a leggere A uomini e animali E incendiare case e boschi E nessuno sa dove può colpire Ma l'intelligenza dell'uomo è riuscita ad imbrigliare Un uccellino Un uccellino Ma perché sta chiuso in gabbia? Oh, poverino Adelaide torna al tuo posto E perché non può uscire? Per proteggerlo Se lo liberiamo può mangiarselo qualche gatto Per questo lo teniamo in gabbia Ma che dici? Gli uccellini volano Che c'è bella signorina Vorresti aiutarmi? Cos'è? Sei muta? Sei arrabbiata con me? Ma di la verità La signorina Rothmeier ti ha proibito di parlare con me Ah, questa! Ah, ho capito Vuoi che apra, eh? Diamo un'occhiata Vedrai che adesso dovrai parlarmi per forza Ecco Allora, che cosa vedi? Niente Solo muri Eh sì La Comforte è una grande città Ma ci sono solo case Ah, sentite Ora noi due saliamo a vedere dai tetti Non hai paura? C'è un panorama stupendo E non preoccuparti perché la signorina Rothmeier e Clara sono uscite da poco e non possono sgridarci Si vedono le montagne dai tetti? Guarda tu stessa Sali Heidi Eccomi È bello qui, eh? Beh, non dici niente Quello laggiù è il Duomo Ah E dalla cima si vedono le montagne Eh, altro che Io però non sono salito in cima Beh, ora torniamo giù Riccola in mezzo Oh no, ancora un pochino Giuda brava Che se ci scoprono Sta attenta, eh E questo cosa? Va Il cielo è blu e partì di tu Quante lacrime di pioggia giù E c'era lì tutta lì per te La montagna e la sincerità Amici ed animali Parevo mille mani Per dirti Heidi ciao Ritorna presto qui Oh Heidi Oh Heidi Se manchi tu Chi sognerà Quest'angolo di mondo Oh Heidi Oh Heidi Oh Heidi Se torni qui Ritroverai Un angolo di pace Oh Heidi Il cielo è blu e le torni tu Quante lacrime di gioia Sì Ed ecco qui Tutta qui per te La montagna e la sincerità Amici ed animali Ti sembrano mille mani Per dirti Heidi ciao E non lasciarci più Oh Heidi Oh Heidi Insieme a te Insieme a te rimane già Quest'angolo di mondo Oh Heidi Oh Heidi Oh Heidi Rimani qui E resterà Un angolo di pace Oh Heidi وت accomplishments Ne vuole qualcuna Prego signora Tua Tua eThat Venga signorina. Grazie Llor. La porti in biblioteca io. Si signorina. Ad i piedi sopra? Ad i piedi sopra. Grazie a tutti. Neanche una montagna. Non riesco a trovare Heidi, ho guardato anche in soffitta. E come poteva arrivarci in soffitta? Beh, so. Rosy, venga un attimo. Il signor console neanche parte che qui scappa una bambina. Heidi non è una che scappa, sarà lei che la spaventa. Sciocchezze, meno confidenza. E torni alla sua cucina. Che è successo? Dov'è Heidi? È sparita. Sparita. Esco a cercarla, non può essere andata troppo. No, lei resta. Rosy, veda se può rintracciarla. Subito, signorina. Sei proprio una simpatica bambina, vieni con me. Ora ti spiego che star devi fare per tornare a casa. So dov'è il palazzo della famiglia Sesemann. Certo che una bambina piccola come te salire sulla cupola del Duomo poteva succedere una disgrazia. Prima che vai, però, voglio farti vedere una bella cosa. Vieni. Guarda, eh, guarda. Che carini. E allora, se ne regalo uno. Grazie. Non è possibile. Deve esserle accaduto qualcosa. È finita in mezzo al traffico. Lei pensa che potrebbe... Ho telefonato alla polizia. Ho telefonato anche a tutti gli ospedali. Vieni. Oh, telefonare. Non serve, lo sa che non danno mai informazioni per telefono. Rosy si dà da fare, almeno lei invece non si muove. Ma io... Vada anche lei, Sebastian. Guardi in giro. Sì, sì, io volevo andare. Non si sbrighi. Eccoci arrivati, incetto. Adesso però sta fermo. Se no ti scopro. Siamo d'accordo, eh? Oh, ma sei qui tu? Ci hai fatto prendere uno spavento. Non dirmi niente, lo immagino dove sei stata. Ma le montagne non si vedono. E non dire alla signorina Rottenmayer che ti ho portata sul tetto e ti ho fatto vedere io il Duomo, se no quella mi fa licenza. Mi raccomando, acqua in bocca. Sì, sì. Avanti. Eccola, signorina. Heidi! Heidi! Ma dove sei stata fino adesso? In alto, in alto. In alto? Che vuol dire in alto? In cima al Duomo. Sulla cupola. Ma santo cielo, come ti è venuta in mente un'idea così strampalata? Ma io... Avanti, sto ascoltando. Su, vieni qui. Non vuoi parlare, eh? Mai successo niente di così assurdo. Allora, perché sei andata lassù, racconta. Io volevo vedere le montagne. Le montagne? E adesso glielo dico. Se anche hai in capo al mondo, oggi me ne torno a casa mia. E mi lasci così? Sì. Oh, io ero così contenta di averti qui. Scusa, mi dispiace, Clara. E tu? Credi di potertene andare quando lo decidi? Certo, così mi aveva promesso. Chi? La tia Dei. Non è una bugia? Io non dico bugie. Avevamo un accordo. Si era detto che se non mi piaceva stare qui, potevo tornare a casa dal nonno. E qui non mi piace per niente. Non ci sono montagne, né caprete, né anche pastori, come il mio amico Peter. E poi io voglio stare con il nonno. Noto che sai parlare benissimo, Heidi, quando vuoi. Ma se ti chiedo qualcosa io, fai scena, muta. Ah, mi prendi anche in giro adesso? No, signorina, è che... Silenzio. Basta con quei versacci. Eh no, la mia pazienza ha un limite, ora... Guardi, un gattino. Sebastian! Sebastian, porti via quel covo di pulci. Teniamolo, è così che... Neanche parlarne, Clara. Sebastian. No. È mio, lui. Eh, dammelo, Heidi, il suo, Heidi. No. Lasciatecelo per favore, non sporcherà. Sariamo a te. Da qua, Heidi, ci penso io, tranquillo. Il mio papà me lo lascerei. Ridammelo, ridammelo. Lascia andare, il tuo cattivo grassone. Ridammi il mio gattino. Ma sta tranquilla, ti ho detto, non gli farò del male. Sarà meglio lui di te, vedrai. Davvero? Eh, ti devo qualcosa, non mi hai tradito, no? Torna di là su, da brava. Guarda che... Siamo complici noi due. Ma come le è venuto in mente di dirle che poteva tornarsene a casa quando voleva? L'ho detto per convincerla a venire. Eh, già, ci teneva a piazzarla in casa, eh? Sarei tentata di rispedirla al paese davvero. E allora cosa aspetta? Con Heidi ho le mani legate, lo sa, ma lei... ...ti attenta perché rischia il posto. Che cosa sta facendo adesso? Mi cerco un altro servizio, chiaro. Ci sono tanti di quegli annunci. Ne cercano qui di cuoche. Ah, c'è anche un ambasciato da queste parti che ne cerca una. Numero... Lasci perdere adesso. E torni in cucina, per favore. Va bene, rimango. Ma solamente per restare vicina ad Heidi, capito? E per controllare come la trattate. Consenta, Heidi. Vattene via, brutta imbrogliona. Io voglio tornare da mio nonno. E mi lasci di nuovo sola. Papà aveva detto che avrei avuto un'amica vicina. Ora basta. Non sono un pezzo di legno. Cerco di sforzarmi in tutti i modi per essere obiettiva, signora. E con questo non voglio dire che la bambina non sia intelligente. E anzi, ha imparato anche ad esprimersi in modo quasi corretto. Ma non è la compagnia adatta per Clara. Innanzitutto, è ancora un alfabeta. Pensi che si è incaponita con una strana testardaggine a non voler imparare a leggere per paura di non poter tornare più sulle Alpi. Un'idea curiosa. Curiosa è dir poco. Per questo io la manderei... A chiamare immediatamente. Me la porti qui. Va bene, come vuole, signora. Clara. Senti, nonnina, ti prego. Non mandarla via, Heidi. È così bello da quando è venuta. Volano via con lei le ore di lezione. Allora, Heidi, spero che tu non abbia già dimenticato tutto quello che ti ho detto ieri. Come devi rivolgerti alla nonna di Clara? Chiamandola sempre, signora. E se ti domanda, non ti piacerebbe di ritornare a casa tua? Tu devi risponderle sinceramente. Certo. E questo cos'è? Un piccolo regalino per il mio tesoro. Grazie, nonna. Su, entra, asvelta. Eccola, la nostra piccola ospite. Vieni, cara, avvicinati. Buonasera, signora. Signora nonna. Ciao, Heidi. Ma che Dio ti benedica, cos'è questo signora? Io sono solo nonna anche per te, ricordatevi. Ma la signorina... Guardi, mi dica lei se è una bambina normale. Nascondeva tutto questo pane nell'armadio per regalarlo a qualcuno al suo paese. E beh, un pensierino che... Oh, ma questo è pane raffermo, figliola. Così duro neanche i maialini lo mangiano. Eh no, se abbrighi ce lo scalda sul fuoco. E così è buono e non si butta via. E tua zia ha ragione. Ma ora dimmi un po', Heidi. È vero che non vuoi imparare a leggere e a scrivere, perché mai? Sai, è Peter che mi ha detto che chi impara a leggere non va più sui monti. Ah, e ti ha detto una gran bugia. Ma va. E le nonne dicono la verità. E ora, se starete buone, vi leggerò una bellissima lavora. Sì, ti prego, nonne. Sì, è pure qui lei. Sì, sì, signorina, piacerà anche a lei. Allora, c'era una volta in un lontano reame un pastore conosciuto in tutto il paese per la sua grande saggezza. Un giorno l'imperatore, con la sua corona d'oro in testa, si recò a trovarlo sui pascoli. Scese da cavallo, si avvicinò e gli disse Cerco una risposta a tre domande. E se tu me le saprai dare, ti donerò un castello. La prima è, come posso fare per contare le stelle? E il pastore, senza neanche pensarci troppo, rispose Maestà, basta che dite ai vostri servi di contare tutti i granelli di sabbia che sono in riva al mare. Un numero infinito, quindi? Mmh. Seconda domanda. Quanto tempo ci vuole a fare il giro del mondo a cavallo? E cosa credete che abbia risposto il pastore? Maestà, basta che galoppiate in modo da avere sempre il sole a picco sulla testa e tra esattamente due volte e dodici ore sarete di ritorno. E ora l'ultima domanda. E a questa nessuno al mondo aveva trovato risposta. Ditemi quanto dura l'eternità. E questa volta anche il pastore dovete pensarci un attimo. Ma poi rispose. Al di là degli oceani c'è il più alto monte che esista. Più alto della vetta dell'Eco. Alto come tutti i monti della Terra messi insieme. E lì arriva ogni mille anni un uccellino che ci si affila il becco. E quando si sarà affilato il becco su ogni centimetro di questa montagna, allora sarà trascorso un solo secondo di eternità. Clara, ti è piaciuta questa favola? Molto. Anche a me. Ce ne sono molte qui di storie come questa. Tieni, te lo regalo. Grazie. Pensa come sarebbe bello se tu potessi leggerlo da sola. Domani prega la signorina Rottenmayer di insegnarti. Vedrai che sei in fissi. Io torno fra due settimane e voglio vedere cosa avrà imparato. Perché sai, devi imparare a leggere Heidi prima di ritornare a casa. Forse mi piacerà leggere. Credo. Saluto, nonno. Ciao, Peter. Ah, bravo. Qui c'è un'altra letta, da Francoforte. Ah, sì? E chi te l'ha detto? Mia madre. C'è scritto sul timbro. E poi mi ha anche detto di salutarvi. E di dirvi che quelle due stanze sono sempre lì che aspettano. E intanto, dato che non ci venite più da noi, vi restituisce questi. Vieni, è per te. Grazie. La lettera è della zia di Heidi? No. E chi l'ha scritta, allora? Una certa signora Sesma, che dice di essere la nonna della bambina malata. Ma dite, nonno, Heidi sta tornando a casa, sì o no? No. Questa donna scrive che... Ma puoi anche leggere da sola? No, devo andare. Sì, ma... Che dice, insomma? Sta a sentire. Dopo le nostalgie dei primi tempi, la bambina si è... si è inserita bene e si sente proprio come... a casa sua. Studia con profitto e ha fatto veramente grandi progressi. È bravissima in aritmetica, inoltre ha imparato a leggere e scrivere in maniera corretta. Beh, io me ne vado. Ma allora, questo vuol dire che Heidi adesso... Che Heidi ci ha dimenticati e che dobbiamo metterci il cuore in pace. Lo sai, Heidi, sono così felice che tu sia qui. Ad un tratto tutto è diventato divertente. Riesco di nuovo a ridere. Glielo dica, Sebastian. Bambine, Sebastian ha una bellissima notizia per voi. Beh, c'è un lieto evento in casa oggi. Nella scuderia è nato un puledrino. Davvero? E finora il nome ai cavalli l'ha sempre dato il signor console, ma adesso non c'è. E allora ho detto allo stagliere che avrei chiesto a due belle signorine di scegliere loro il nome da dare. E poi, appena avrete deciso come chiamarlo, potrete andare giù in scuderia a vederlo. Oh, sì. Può andare, Roland? Ah, Roland è bellissimo. Solo che ha una cavallina. Io ne so uno. Com'è? Nel libro della nonna c'era una storia dove si parlava di un cavallo bianco che... Ecco. E così ogni mattina all'alba il povero Dagobert andava nella spalla a sellare il cavallo bianco. Astrid si chiamava. Astrid, mi sembra perfetto. Astrid? Non ci sarei mai arrivato. E' deciso. E ora quando volete potete andare a vederlo. Sì, andiamo. E' dentro al box la puledrina? E' là con la madre, signorina Chiara. Riesce a vederla? Sì, sì, abbastanza. Guarda che dolce che è. Qui, micio. Vieni, Astrid. Vieni qui. Si ricorda il micetto nato qui? Oh, come è diventato grande. Se permette, signorina, vado a sistemare l'auto. Anzi, dammi la mano. Sì, certo. Voglio entrare dentro. Ma no, Ivy. Può essere pericoloso. Oh, io non ho mica paura. Tieni. Brava. Mangia. Ma la vedi, Clara, quant'è carina? Vuoi un altro zuccherino, Astrid? Vieni. Su. Clara. Ti sei alzata in piedi. Sei stata in piedi. Vado subito a chiamare io, Anna. No, no, ti prego. Forse non è vero, ho sognato. Ma no. Voglio provare un'altra volta. Ti aiuto. Brava, hai visto? Brava. Così. Ti ha fatto male? E allora perché piangi? Io so stare in piedi. Ma per favore, Ivy, non lo dire a nessuno per ora. Scusate tanto se interrompo la vostra esibizione canora, ma oltre ai numeri di varietà c'è anche qualcos'altro da fare in casa. Per esempio domani pulizie generali. Su, coraggio. Se sei riuscito a stare in piedi, devi riuscire anche a camminare. Dai, prova. E dovrei camminare fin laggiù. Si capisce. Ecco così. Aspetta, ora ti metto una staglia a metà strada, eh. Su, andiamo. Hai visto che cammini? Sì, un po' ci riesco. Sono così emozionata. Riproviamo domani, è meglio. Ma che domani? Pensa che se riesci a camminare puoi venire a vedere i miei fiori sulla montagna. Su. Così. Brava. Brava. Cos'è stato? È caduto qualcosa nella stanza della signorina Clara. Non è possibile. Stai bene? Ti riaccompagno al letto. Appogliati. Rosy! Sebastian! Presto chiamate il dottor Klassen! Per l'amor di Dio! Clara! Clara! No, la lascia andare. No, la lascia andare. Eccolo, è arrivato. Ah, signor console? Io, tieni qua. Bentornato. Rosa, che piacere trovarti qui. Ti aspettavamo con i pazienti. Ma c'è anche la nostra contadinella. Era ora. Ti ho portato un regalino, ma è dentro le valigie. E ora andiamo di corsa a casa ad abbracciare la mia bambina. Come sta? Ah, benone. Vedrà, signor console. Sbrigati. Dai, dai qua. Io corro avanti. Presto, è arrivato. Ma, Heidi! Sebastian? Signor console. Tutto bene in casa? Sì. Ma dov'è Clara? Rudolf? Sì? Clara non c'è. Signorina Rottenmeier? Oddio mio. Papà! Clara. Clara! Papà! Sì, signorio mio. Ma questo è un miracolo. So camminare, papà. E dobbiamo ringraziare soltanto la piccola Heidi. Ma questo il nostro caro dottore lo sapeva e non mi ha scritto niente. Che cattivo non dirmi una cosa del genere. Ora non dovrai più portarmi in braccio, papà. Lo farò senza essersi costretto. Clara. Perché non mi avete fatto sapere niente? Volevamo che fosse una sorpresa, solo per questo. Lo è stato e come. Altro che... Siediti, non affaticarti. Sono stata per tanto, saluta. Non devi stancarti. Qui. E adesso, Rudolf, raccontami come è successo questo miracolo. Beh, ecco. Devo confessare che la scienza non c'entra. Il miracolo l'ha compiuto quella signorina laggiù. Va, Heidi, va. Heidi? Heidi. Heidi, come potrò ringraziarti? Piccola, cara... Questo è solo un primo acconto, il resto verrà dopo. Oh, dunque questa è per... Per... Ah, sì. È per te, cara. Grazie, papà. Tesoro mio. È questo. Grazie. È tutto per te. Grazie, signor Seseman. Ma che signor Seseman. D'ora in avanti dovrai chiamarmi papà. Sei una sorellina per Clara, io ti considero già una figlia. Questa è la tua casa. Resterà qui con noi. Domani dirò all'avvocato di fare le pratiche necessarie. Una bambola. È una giapponesina. Grazie. È carina. Rosy, porti Heidi a letto, è tardi. A domani. Buonanotte, signor Seseman. Buonanotte, tesoro. Buonanotte, Heidi. Notte. Buonanotte. Oh, ma che meraviglia. Guarda, Heidi, non ti piace? Sì che mi piace. Rosy. Sì? Ma allora io dovrò restare qui. Ma certo. È una bella fortuna. Le montagne. Il laghetto. Eh sì, d'accordo, la montagna è bella. Io però preferisco il mare. Rosy. Sì? Venta. Spogliati subito a fare la nanna, eh? Buonanotte. Buonanotte, Rosy. Buonanotte. 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 Non mi pare, non mi pare. Mio caro Rudolf, oggi è una giornata speciale. Ho detto che domani non andrò in ufficio. Un miracolo simile bisogna festeggiarlo come si deve. Sì, che intendi adottarla sul serio, la piccola Heidi? Certo, merita di più dalla vita, non credi? E sei ben sicuro che sia la cosa migliore per lei? Senza falsa modestia, credo che essere figlia del console sei settimane sia cosa auspicabile. E quando Heidi sarà grande lo capirà meglio per i vantaggi che ne avrà. A mia figlia. Sì, chi è? Mi scusi tanto, signor console. Mi spiace disturbarla, ma Heidi è così agitata. Parla da sola nel sonno e mi pare che scotti. Se il dottor Classe ne volesse dargli un'occhiata... Non mi... Nonno, vengo. Prego, dottore. Chissà, l'eccitazione forse. Ha febbre alta, respiro faticoso e senso d'oppressione. Ma se stava benissimo, quale può essere la causa? Probabilmente questa. Un libro, non capisco. Eppure mi sembra molto chiaro. È consigliabile darle qualcosa per buttare giù la febbre? Le faccia dei massaggi con l'alcol. Alle volte un vecchio rimedio paesano fa più degli antibiotici. Sì, subito, dottore. Ma Sebastian! Eppure lo sa che Heidi non deve essere disturbata. Mi scusi, signorina, come sta oggi? Ha riposato più serenamente e la febbre è calata. C'è il dottor Classe in di là. Allora Heidi, hai dormito bene stanotte? Chissà che bei sogni avrei fatto, eh? Sì, sogno sempre io. Ah, e che cosa sogni? La... la mia casa. Ah, ecco, le montagne, i torrenti. Ma senti un po'. Lassù non ti annoi, non ti senti mai sola. Niente, è così bello, così allegro e divertente. Voglio vederli anch'io quei posti allora. Mi ci dovrai accompagnare? Sì. Per ora non posso prometterti niente, Heidi. Ma son certo che presto sarai felice. Notizie da Londra? Ah, ah. E mandi un tele che si disollecita a Mr. Davidson. Se c'è altro io sono a casa, signorina. Allora, cosa ha la piccola? Per capirlo non c'è bisogno di essere un medico, è chiaro? Ha nostalgia di casa. Nostalgia? Ma qui ha tutto quello che vuole. E poi come farebbe Clara senza Heidi? Alfredo cerca di capire. Heidi ora è malata un po' come lo era Clara prima. Malata qui dentro. D'accordo, d'accordo. Ma ci sarà pure una cura, una medicina che possa aiutarla a riprendersi. La medicina di cui ha bisogno Heidi si compra anche senza ricetta. È un biglietto, da Francoforte al paese. Dovrei mandarla via. E cosa dirà Clara? No, no, non è possibile. Poi c'è già l'avvocato di mezzo per l'adozione. Comunque, c'è un rapido che parte mercoledì alle 10 e 30. Vedi un po' tu. Allora, come direbbe Heidi? Ciao, signor consolo. Ecco. È più roba tu di Clara, momenti. Cosa stai cercando? Il libro. Il libro che mi ha dato tua nonna. Ma è qui, eccolo. Questo lo porto con me. E anche il panno è bianco, chissà come sarà contenta, Brigitte. Domani sarai a casa. Eh, sì. Il nonno non lo sa a chi arrivo. Mi accompagni al treno? No. E perché? Perché se no mi metto a piangere e do un dolore a papà. Lui vuole vedermi sempre felice. Eh, ma non devi mica piangere, sai. Tra un paio di settimane ci rivediamo. Perché venite a trovarmi. E potrò dormire con te in montagna. Si capisce. Per tutto il tempo che vorrai. Ti piacerà la casa del nonno? E fiocco di neve e nerina. Che ci fai con quel vecchio cappello? Che ci faccio? Mi serve per andare sulla montagna. Presto, bambine. Si fa tardi. Allora, intesi Sebastian? Pensi lei, mi raccomando. Veda che Heidi e Deite siano ben sistemati. Il treno passa alle 10.30. I biglietti li ha Johan. Su, allegra Clara. La rivedrai presto. Allora, ciao Heidi. Sei una cara bambina. Ora basta coi saluti o piangiamo tutti. Ciao, Tedoro. Hai tutto? Ah, no! Io chiedo scusa, ma ci parte il treno. Hai ragione, Sebastian. Mi la regala che la regalo al nonno. Alla stazione non le vendono. Ma certo che puoi prenderla. Portala al nonno e digli buone pipate da parte mia. Allora, senti. Io e Clara tra due settimane partiamo e veniamo a trovarti a casa tua. E tu ci accompagnerai a vedere le meraviglie della tua montagna. Vengo davvero. E guai a te se no. E ora, cosa mi hai promesso? Io lo faccio, eh. Certo. Lasci, signorina. Le prendo io le valigie. E sarà meglio fare un salto dalla zia Brigitte prima, no? E perché? Lasciamo le valigie. Chi le porta fino dal nonno? Hai ragione. Io intanto corro avanti. Lo sai il vecchio delle alpi che Heidi è tornata? No, non credo. Sarà meglio dirlo anche al borgomastro. Che ne dite? D'accordo. Ma come sei elegante, Heidi. Come una vera signorina di città. E che cappellino. Ti piace? Sì, non è male, ma a me piace più quello vecchio. Ma è tutta roba tua. Tieni, zia. Questo è per te. Per me. Pane bianco. Se ne sei ricordata? Eh. E questo è per te. Un salame enorme. Allora vi faccio il letto qui per stanotte? No, vero, tia Deite. Dobbiamo andare subito dal nonno. Sì, Heidi. Solo che io non ho le gambe per la montagna. Mi stancherei fino lassù. Sai, Peter. A Francoforte non ci sono montagne. È solo case. Io penso che sia meglio che ci vai da sola dal nonno. Sì, Heidi ormai è grande, può darci benone da sola. E Peter te le porterà a lui le valigie più tardi. Eh sì, sì, facciamo così. Salutami tanto tuo nonno e di lì che non ce l'abbia con me. Io credevo di farti del bene. Credevo che saresti stata felice in città. Non piangere, tia Deite. Sono così felice ora, è finito tutto bene. Ciao, tesoro. Io accompagno la zia, eh. Grazie. Buona fortuna. Anche a te, zia. Oh, ai di Dì, oh, ai di Dì, se manchi tu chi sognerà quest'angolo di mondo, oh, ai di Dì. Oh, ai di Dì, oh, ai di Dì, se torni qui ritroverai un angolo di pace, oh, ai di Dì. Il cielo è su e il fornito, quante lacrime di gioia su, ed ecco qui, tutta qui per te, la montagna e la sincerità. Amici ed animali, ti sembrano mille mani, per dirti ai di ciao e non lasciarci più. Oh, ai di Dì, oh, ai di Dì, se ne a te rimane già quest'angolo di mondo, oh, ai di Dì. Oh, ai di Dì, oh, ai di Dì, se ne a te rimane qui e resterà un angolo di pace, oh, ai di Dì. Ciao, Heidi. Buongiorno, signor Borgomastro. Bentornata. Vai dal nonno? Eh, sì. Allora puoi venire con noi. Sì, sì. Il mio nonno. No, 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 Heidi, aspetta, aspetta. Così sarebbe troppa emozione, no? Prima vado a parlarci io, d'accordo? Sta a sentire. Appena entra nella stalla, tu infilati in casa. Vai, corri. Vai, corri. Vai, corri. Oh, ai di Dì, oh, ai di Dì, se ne a te rimane già e resterà un angolo di mondo, oh, ai di Dì. Oh, ai di Dì, oh, ai di Dì, se ne a te rimane già e resterà un angolo di mondo, oh, ai di Dì. Buongiorno nonno, come state? E cosa volete? Fare due chiacchiere Ormai è passata tanta di quell'acqua sotto i ponti E domani è domenica Non sono solo come vedete Buongiorno nonno Non volete ricambiare il loro saluto? Siamo venuti tutti insieme per parlarvi Non dovete pensare che giù la gente del paese ce l'abbia ancora con voi E per dimostrarvelo abbiamo pensato di fare un salto qui per dirvi Stringiamoci la mano e facciamola finita E che ne dicono le vostre donne? Vedrete voi stesso cosa pensano tutti quando verrete in chiesa Perché verrete domani Ne saremo felici Lo dico a nome del paese Aspetterete un pezzo Possiamo andare Ora sa come la pensiamo E chi lo sa Forse ci ripenserà Dovrebbe accadere un miracolo Perciamola 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 buongiorno come va buongiorno non c'è male non è proprio curioso di vedere se il vecchio si è ammorbidito o no ah un testone quello si lo penso anch'io ecco il borgomastro buongiorno 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 buongiorno